Il silenzio è d'oro, non a Catania, specie quando si parla di calcio. Sono passati dieci giorni dalla fine del campionato e i tifosi continuano ad aspettare un segnale dalla dirigenza per ripartire e mettere da parte due stagioni fallimentari. A torre del grifo tutto tace, ma la sensazione è che si stia lavorando sotto traccia per costruire il nuovo Catania, che il 21 agosto sarà ai nastri di partenza del torneo di Serie B, possibilmente con un ruolo da protagonista. Chiuso il rapporto con Delicarri, il Catania è intenzionato a dare pieni poteri a Cosentino, che insieme al Fido Canigia dovrebbe condurre la campagna di rafforzamento. Il primo tassero da apporre, data la mancata conferma di Marcolin, sarà il nuovo allenatore, il club Etneo avvirato, con convinzione su Pasquale Marino, il tecnico Marsalese giocherà domani con il suo Vicenza, il ritorno dei play-off con il Pescara, da questa sfida dipenderà il futuro di Marino e quindi del Catania. In ogni caso si pensa ad alcune soluzioni alternative, piace Roberto De Zerbi, altro ex autore di un ottimo campionato in Lega Pro sulla panchina del Foggia, ma non si perde di vista l'ex Cesenate Pierpaolo Bisoli. In attesa di sciogliere il nodo allenatore, si lavora per rinforzare l'organico, anche se molte operazioni in entrata, visto l'esiguo budget a disposizione, dipenderanno dalle cessioni. Valigie in mano per Pison, Gionber, Rinaudo, Castro e Spolli, quest'ultimo rientrerà dalla Roma per essere ceduto, Sampdori e Torino avrebbero chiesto informazioni. Stesso discorso per Ciccioloti, che dopo l'esperienza a Parma tornerà alla base per essere girato altrove, tramontata l'ipotesi Frosinone, restano percorribili le piste che portano ad Empoli, Chievo ed Atalanta, bergamaschi interessati anche a Calaio, che piace agli inglesi del Litz. In entrata poche e frammentarie notizie. Il Catani avrebbe messo gli occhi su Luca Garritano, nazionale under 20, attualmente al Modena e autore di una doppietta contro l'Entela nei play-out, mentre per la difesa non è un mistero l'interesse per il rosa-nero da prela.